Eccoli! RACEMENT! RACEMENT! riesce! FANTS! 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 Gaccia! 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 Prendonata! Ehi! No, il giusto col miglioro! Non, non! Gaccia! E la giove di rosa! E n'am! E n'am! E n'am! E n'am! E n'am! Daniel le ritmo! Gaccia! Daniel! E n'am! 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 Ciao bello! Sì! È lì! Grazie! Grazie a tutti. Grazie mille per essere venuti questa sera. Intanto volevamo dirmi che ci sentiamo molto onorati per essere qui stasera con tutti voi. Grazie mille. 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 Grazie mille.